benvenuti a questo nuovo video dal titolo quanto mai significativo ovvero quando il kernel facci recca perché questo perché proprio ieri mi è successo di applicare una serie di aggiornamenti al mio sistema ubuntu 1204 e fra i quali tra i vari aggiornamenti c'era anche quello di un kernel di una versione nuova per il kernel aggiornata ecco quella versione di kernel è questa che vedete qui elencata nel gestore di aggiornamenti attualmente elencata nel gestore aggiornamenti siccome io nel mio sistema ho attivato anche l'opzione di propormi gli aggiornamenti proposti ecco quasi un gioco di parole ecco che arrivano aggiornamenti più frequenti anche del kernel perché se voi non attivate questa opzione nella gestione dei vostri pacchetti software non vi arrivano appunto delle versioni anticipate di quelle che poi una volta consolidate diventano aggiornamenti comuni io così per mia scelta ho deciso di attivare gli aggiornamenti proposti ed ecco che appunto ieri mi è arrivato uno dei vari aggiornamenti di kernel che si susseguono nel tempo fatto sta che disgraziatamente questa volta è successo che arrivato un kernel baccato ovvero con un con un problema o meglio una versione di kernel che al riavvio del pc causa il blocco completo del unity dell'interfaccia di ubuntu e così mi sono trovato praticamente con una schermata grigia nera senza poter interagire con nulla nel mouse e non sono l'unico naturalmente è stato aperto già un bug su launchpad con numerosi utenti che continuano aumentare più passa al tempo che segnalano problemi con questo kernel 3208 la versione specifica ecco ho deciso appunto proprio perché mi è capitato fresco fresco ieri questo problema ho deciso di fare questo video per perché magari capita anche a qualcun altro questo problema e magari si trova bloccato con il suo pc e panico non sa cosa fare ecco allora direi prima di tutto niente panico perché linux ha sempre una soluzione per i suoi problemi o quasi sempre insomma e giusto piccola parentesi il kernel di linux che cos'è visto che non devo dare per scontato che sia così chiaro cosa sia il kernel quindi kernel parola inglese per dire nocciolo nucleo che sta ad indicare appunto il nocciolo il cuore del sistema linux ogni distribuzione linux che sia ubuntu o no si basa appunto su linux che è questo kernel quindi c'è dietro ogni distribuzione indipendentemente dal tipo di interfaccia grafica che ognuno preferisce usare sotto sotto il cofano ci sta un kernel linux quindi il cuore il vero e proprio linux è il kernel ecco quindi se non va quello ovviamente non funziona nulla e in un mondo ideale il kernel linux non dovrebbe mai essere rilasciato al pubblico con dei difetti in un mondo ideale dico perché siamo tutti uomini anche chi prepara il kernel linux o i pacchetti per le specifiche distribuzioni del kernel linux può fare degli errori essendo degli esseri umani in che loro può succedere succede molto a dire il vero rarissimamente che venga rilasciato un kernel linux con dei problemi a me personalmente da quando uso punto in tutti gli anni che lo sto usando è successo una volta diversi anni fa all'inizio quasi nei primi tempi in cui usavo punto è successo una volta adesso che è capitato un'altra volta ma attenzione dettaglio non indifferente è capitato a chi come me ha attivato l'opzione di ottenere degli aggiornamenti più in fretta di altri attivando l'opzione aggiornamenti proposti chi non ha attivato questa opzione sicuramente non incappa in questo problema perché non riceve con la stessa tempistica il kernel nuovo come come questo ecco quindi problema cos'è che avete praticamente il pc completamente fermo bloccato riavviate il pc come vi viene chiesto dopo un aggiornamento di un kernel lo riavviate non potete più usarlo non potete più usarlo perché appunto questo kernel non interagisce in modo corretto col vostro con il resto del vostro sistema ecco cosa fare quindi ecco dicevo che linux ha sempre una soluzione per i suoi problemi in effetti di kernel nel vostro sistema possono esserne presenti contemporaneamente diverse versioni perché questo perché non è che un kernel linux una volta installato sovrascrive i kernel precedenti ma si aggiunge ai kernel precedenti perché appunto è distinto dalla sua versione vedete che questo ultimo kernel è la versione 3.2.0 lineetta 38 ma in realtà nel mio sistema ho già sto già sto usando un kernel precedente di una versione precedente e posso avere se non li ho puliti cioè se non li ho eliminati anche kernel molto più vecchi finché non vengono puliti restano lì cosa ci cosa ci guadagniamo da questa situazione ci guadagniamo che noi una volta constatato il danno diciamo così al riavvio del pc una volta constatato il danno possiamo riavviare un'altra volta pc però scegliendo il kernel precedente che sappiamo funzionare perché fino a due minuti prima tutto il nostro pc funzionava abbiamo aggiornato riavviato non funziona più nulla quindi sappiamo qual è l'indiziato ovvero il kernel l'ultima versione così possiamo riavviare il nostro pc con la versione precedente come si fa allora posso chiudere questo perché abbiamo capito da dove viene il problema avete capito un aggiornamento di kernel baccato quindi come si può riavviare il proprio pc con il kernel precedente per permetterci di lavorare con il nostro pc di operare con il nostro pc allora qui ho una macchina virtuale con ubuntu 1210 quindi in questo caso non è il 1204 come mio pc vero ma fa niente il principio uguale quindi si avvia il pc diciamo che avviamo il pc e quando lo avviamo teniamo premuto il tasto shift della tastiera otteniamo giù e dopo un attimo avete visto che apparsa la scritta group loading il group è il menu di sistema linux diciamo di partenza di preparte prima che parte effettivamente il caricamento del sistema operativo c'è dietro questo menu che normalmente non vediamo mai perché almeno non vede mai chi come me ha installato solo ubuntu sul suo pc chi è installato per esempio anche windows assieme si vedrà sempre apparire questo menu per chiedergli vuoi far partire ubuntu o vuoi far partire windows per esempio noi avendo solo ubuntu installato parte senza essere visualizzato questo meno il nostro pc parte sempre saltando questo passo in realtà noi adesso l'abbiamo bisogno questo passo perché abbiamo un kernel baccato installato che se lasciamo partire il pc normalmente si avvia quel kernel e si blocca tutto il pc noi vogliamo utilizzare un kernel più vecchio ancora installato sul nostro sistema quindi schiacciamo il pulsante di avvio del pc teniamo premuto il tasto shift quando non ci appare questo menu new grab versione eccetera eccetera poi da ubuntu 12g in avanti il menu si presenta così quindi una voce ubuntu che poi il sistema operativo normale che parte con l'ultima versione di kernel quella che adesso non ci funziona e poi c'è sotto un opzione opzioni avanzate per ubuntu ecco qui si naviga con le frecce su e giù della tastiera tra l'altro e sto andando con le frecce su e giù quindi scelgo la seconda faccio enter e vedete che mi appaiono tutti i kernel che io non ho mai pulito da questa macchina virtuale quindi la prima volta che ho installato questa macchina virtuale era il tempo del kernel 350 15 poi passa il tempo è arrivato il 17 18 19 21 e 23 ecco facendo finta diciamo in questo caso che il kernel problematico che non funziona bene con il nostro sistema il 350 23 che quello che partirebbe normalmente se non facessimo niente sul nostro pc lo non lo selezioniamo e diciamo per esempio voglio partire col 350 21 che era il kernel l'ultimo precedente a quello problematico quindi io in una situazione di questo tipo ripeto niente panico facciamo quello che ho appena detto shift menu di grab scegliamo le opzioni e andiamo a sceglierci un kernel che sappiamo funzionare e quindi una volta scelto ecco questo facciamo enter la macchina il nostro pc partirà con quel kernel e non con l'ultimo il 323 ma il 21 ecco questo la macchina virtuale mi è servita perché sto registrando il video ovviamente non posso fare il reboot del mio pc intanto che registro il video quindi questa parte voi la vedrete effettivamente sul vostro pc fisico che poi quello che ho dovuto fare anch'io effettivamente ieri quando ho installato il kernel problematico quindi ho fatto partire il mio ubuntu 12 04 con una versione di kernel precedente ecco attenzione che in ubuntu 12 04 mi sembra che appare un po di pare un po diverso il menu grab ubuntu mi sembra che indica già qui nella prima riga la versione di kernel con la quale funziona e poi qui mi sembra che invece di opzioni avanzate ci sia versioni precedenti di ubuntu qualcosa del genere del kernel comunque il principio poi che pur sempre quello a parte la dicitura che può essere diversa del menu il principio è quello andate nella seconda voce enter e vi scegliete un kernel più vecchio questo per quanto riguarda la partenza il boot del pc quindi abbiamo visto in macchina virtuale cosa intendo una volta che abbiamo fatto partire il nostro pc quindi con il kernel precedenti sicuramente funziona come adesso vedete qui il mio pc vero dal quale sto registrando il video con il quale sto registrando il video vedete che funziona ma funziona con il kernel della versione prima e non con quella che vi ho fatto vedere all'inizio del video non con la punto 38 ma con la punto 37 cosa possiamo fare adesso allora prima soluzione ve l'ho già mostrata quindi intanto che si attende che gli sviluppatori aggiustino le cose ovvero rilascino una versione del kernel ripulita dal problema e quindi installabile e che funzionerà in attesa di ciò sicuramente evitate di aggiornare il kernel quindi anche se il vostro sistema ovviamente vi indica aggiornamenti disponibili perché in effetti c'è a disposizione un nuovo kernel non fatelo ovviamente aggiornamento se no ricadete nello stesso problema allora prima soluzione ve l'ho appena mostrata con la macchina virtuale quindi nell'attesa se volete una scelta vostra potete sempre usare questo sistema quindi ricordatevi se spegnete il pc quando lo accendete tenete premuto il tasto shift per ottenere questo menu e scegliere un kernel che non sia l'ultimo e questa è una possibilità quindi quella è una soluzione non così comoda se i tempi di correzione del kernel si allungano dovete ricordarvi ogni volta di tenere il tasto shift premuto se no vi parte il kernel con i problemi e questo comunque è una soluzione un'altra soluzione è quella di togliere l'ultimo kernel che dà problemi in attesa appunto di una soluzione quindi eliminarlo e rendere di fatto per difetto l'ultimo kernel il penultimo quindi quello che era attivo fino al momento dell'aggiornamento come facciamo io trovo più pratico a questo punto se già non l'avete installato sul vostro sistema aprire ubuntu software center e incominciare a installarvi il gestore pacchetti synaptic quindi aprite l'ubuntu software center cercate questa parola synaptic o la y e installate questo gestore di pacchetti che non è l'ubuntu software center in quanto tale ma appunto un gestore specializzato di pacchetti una volta installato quel programma lo avviate e ve lo trovate così con la sua interfaccia classica ecco chi è già usato ubuntu da anni sa che l'unico gestore di pacchetti in pratica prima era proprio synaptic poi è intervenuto ubuntu software center come alternativa anche con scopi e obiettivi diversi comunque synaptic resta comunque sempre disponibile nei repository ecco una volta che avete avviato synaptic potete fare una ricerca qui nel campo quick filter e inserite la parola kernel ecco inserite la parola kernel poi mettete in ordine alfabetico i pacchetti cercate le voci che iniziano con linux ecco qua c'è un una serie di pacchetti che troverete installati che sono poi questi che hanno a che fare appunto col kernel quindi col cuore del nostro sistema questi sono i pacchetti che danno che si installano e forniscono al nostro pc il cuore del sistema linux ecco io naturalmente ieri per poter utilizzare il mio pc ho già fatto la pulizia quindi ho scelto diciamo la soluzione di togliere il kernel problematico e non attendere un ulteriore aggiornamento e usare lo shift col menu grab ma ho deciso di far pulizia per far partire normalmente il mio pc col kernel penultimo kernel quello che è funzionato fino a ieri quindi vedete che la versione installata ecco qui che allargo un attimo la colonna vedete qui versione installata è la 3.20.37 che quella che sempre funzionata quella problematica abbiamo detto era 38 vedete qui 38 ecco cosa succede succede che questa è la situazione già pulita quindi con la versione installata tutto 37 non 38 quando voi aprite synaptic mentre avete ancora l'ultimo kernel problematico già installato vi troverete qui 38 come versione naturalmente questo video io lo sto facendo adesso il 10 febbraio e sto parlando di kernel 3.2.37.38 magari se a voi capiterà in futuro di avere questo problema chissà quando con un altro kernel ovviamente fate il parallelo con la vostra versione del momento ecco allora come si fa ad eliminare la versione più nuova che da problemi non è così difficile si deve si devono rimuovere i pacchetti che hanno il nome della versione quindi questo per esempio linux headers 3.2.38 nel caso corrente vedrete qui 38 38 38 questi tre pacchetti vanno eliminati quindi con il gestor di pacchetti synaptic si fa tasto destro rimuovi o rimuovi completamente ecco potete fare rimuovi completamente li selezionate li marcate con questa operazione e poi cominciate a togliere quelli fate applica qui con questo pulsante applica e questi pacchetti 38 vengono eliminati dal vostro sistema ricordate che potete farlo perché avendo riavviato il kernel scusate il pc con il kernel della versione precedente il pc sta lavorando e sta operando con il kernel punto 37 e voi state eliminando il kernel punto 38 quindi le cose l'operazione è indifferente neutra per il pc perché lui in realtà ha in memoria e sta usando il kernel 37 quindi non fate non state facendo male al sistema state semplicemente togliendoli l'ultima versione problematica del kernel che non sta usando in questo momento quindi prima operazione togliamo tutti questi pacchetti questi tre pacchetti che sono differenziati dal nome di versione più kernel avete anche vecchi installati sul vostro sistema più esemplari di questo pacchetto avete ecco in questo caso mi sono già posizionato sul kernel installato 37 perché nel mio sistema ho ripulito tutti i kernel vecchi nel mio sistema vero quindi non come nella virtual box avete visto molte versioni vecchie io avevo solo la 37 installata perché funzionava e non avevo motivo di tenere la 36 la 35 eccetera eccetera ogni tanto faccio pulizia quindi quindi è solo la 37 vedete che c'è solo elencato il kernel 37 finale 37 allora è dunque prima operazione si eliminano questi pacchetti specifici per versione di kernel e questa è fatta seconda operazione si deve forzare alla versione precedente i pacchetti che non sono distinti per versione cioè questi quattro li vedete qua questi quattro pacchetti che non hanno appunto il nome della versione non sono distinti per nome di versione quindi vedete linux aspettate che magari metto così quindi linux generic che è questo vedete questo ha solo c'è solo un pacchetto che continua a crescere man mano che cresce la versione del kernel quindi questo è generico e quindi questo poi headers generic che è questo image eccolo qua generic che è questo e il libc linux libcdev che anche lui vedo che segue la versione del kernel linux kernel headers for development si è installato per coerenza fate seguire anche questo pacchetto la versione degli altri quindi come si fa con il gestore di pacchetti sinaptica installare una forzare una versione precedente di un pacchetto quindi lo si seleziona si va sul menu pacchetto qua e si fa si sceglie forza versione ecco quindi qua tolgo così non ci disturba ecco forza versione presenta una una come si dice una tendina con tutte le versioni installate di un pacchetto scusate con tutte le versioni conosciute dal sistema di un certo pacchetto ecco vedete qui che nel caso specifico mi presenta comunque la versione ultima quella problematica 32038 del kernel e anche la 30237 che era l'ultima funzionante ecco io cosa ho fatto ieri avevo installato qua per esempio di questo linux generic la 3203846 versione installata e ho voluto portarlo alla versione precedente quindi ho scelto questa 3203745 ho schiacciato il pulsante forza versione schiacciando il pulsante forza versione qui cambia l'icona e il gestore pacchetti marca questo pacchetto come da installare a una versione inferiore o come dicono in inglese bisogna fare il downgrade quindi installa aggiornarlo ma al contrario cioè scendendo di versione invece di salire uguale stessa operazione per gli altri quindi dopo il generic ladders generic pacchetto forza versione si sceglie la penultima si fa forza versione se faccio annulla perché io l'ho già fatto è uguale anche per questi altri due quindi riassumendo cosa abbiamo fatto abbiamo già eliminato questi con la versione specifica abbiamo marcato questi altri quattro pacchetti per l'installazione alla versione inferiore e quindi bisogna fare applica appunto questo downgrade questa installazione al contrario bisogna fare applica per fargliela applicare alla fine di questo secondo applica ci troviamo questa serie di pacchetti del cuore di linux non più alla versione problematica ultima ma la penultima che funzionava come vedete qui tutto a 37 ecco a questo punto il vostro sistema sta già funzionando con la versione 37 del kernel qui avete semplicemente ripulito il kernel ultimo cioè quello che viene preso per difetto quando parte il pc quindi adesso potete chiudere tutto potete anche riavviare il vostro pc non dovete più ricordarvi di tenere il tasto shift premuto per il menu grab perché il pc prenderà automaticamente l'ultimo kernel che trova ovvero il 37 e non il 38 come detto per qualche giorno fin quando questo problema del kernel non è risolto vi apparirà sempre aggiornamenti disponibili nel vostro sistema perché ovviamente lui vi propone tenta di dirvi guarda che io un kernel più recente vuoi aggiornarlo sì no voi non fate lo aspettate finché è necessario ecco questo sembrava un video utile può essere utile a qualcuno perché posso immaginare che l'utente comune come sempre come ritengo essere il pubblico del mio canale può anche andare in panico dopo un aggiornamento se si trova il pc tutto bloccato adesso cosa faccio chissà cosa è successo non mi ricordo più cosa ho fatto bene ecco se il sistema si blocca in questo modo 99,99 per cento dei motivi è dovuto al kernel che ripeto per fortuna non succede quasi mai ma siamo tutti esseri umani quindi ogni tanto può succedere se voi installate un'applicazione che non c'entra col kernel difettosa sarà quel programma che non vi parte più o che vi crea problemi o che salta che vi dà errori ma il sistema vi funziona se invece il kernel è baccato allora il sistema non funziona tutto il sistema quindi è molto diverso ecco con questo concludo vi ringrazio come sempre per l'attenzione un saluto e alla prossima allora